Beats Studio 3 Wireless Bello a tutti ragazzi, benvenuti o bentornati qui sul canale di Pringi Luca prima di fare i birbantelli e di andare ad aprire questo bellissimo prodottino appena arrivato vi ricordo che se non l'avete ancora fatto dovete iscrivervi al canale, attivare la campanellina e lasciare un bel like a questo video ora però dedichiamoci a loro oggi abbiamo la doppia inquadratura, infatti mi vedrete anche dall'alto e vedete questo bellissimo pacchettino qui che come potete vedere già dalla confezione è veramente stra-stra figo e ragazzi è un prodottino veramente molto molto interessante parliamo di Beats, che è una casa che ormai sappiamo molto bene che è stata risucchiata, acquisita dalla casa di Cupertino e quindi abbiamo tutti quei piccoli dettagli, tutte quelle piccole attenzioni che la casa di Cupertino inserisce per i suoi prodotti e già qui come potete vedere dalla confezione e dal packaging è stato fatto un lavoro stra-interessante passiamo però subito ad andare a vedere quello che si cela all'interno premetto che questo pacco, questo prodotto mi è stato prestato da un amico per questo è chiuso e quindi è stato un prodotto che lo utilizza e mi ha prestato giusto per fare questa recensione, anzi questa prima impressione ed un video futuro mettiamo, cominciamo ad aprirla e mettiamo lo scatolo qui da parte come potete vedere questa confezione è veramente molto molto bella sotto il punto di vista estetico è veramente molto curata con questo piccolo dettaglio in rosso qui sopra veramente stra-figo e andiamolo ad aprire allora togliamo questo qui, lo appoggiamo da quest'altro lato e boom, change the way you hear sound significa che bisogna cambiare il modo di ascoltare i nostri suoni andiamo a togliere subito questa protezione superiore e come potete vedere proviamo subito all'interno questa bellissima pochette che va a contenere effettivamente le cuffie è veramente molto molto curata, tutta in soft touch con le cerniere super rinforzate e quello che va ad aprire le cerniere è veramente molto curato sotto il punto di vista estetico abbiamo anche una linguetta qui sopra, suppongo per andare a metterci un moschettone e trasportarlo nella maniera più comoda ma devo dire che è veramente molto molto curante, è molto bella al tatto questa confezione appoggiamola un attimino qui da parte e andiamo a vedere quello che si cela ancora al di sotto di questa confezione in modo tale da togliere le scatolame di mezzo togliamo questo, lo appoggio velocemente qui troviamo manuali di istruzione, veramente molto molto carini speriamo che troviamo all'interno anche qualche bellissimo adesivo sì, esatto, eccolo qui proprio quello che mi aspettavo, un bellissimo adesivo in stile Apple e all'interno troviamo questo bellissimo manuale molto molto bello che va a raffigurare tutto quello che è il pairing con il nostro iPhone dato che questi dispositivi sono perfettamente compatibili con iOS andiamo a rimuovere questi manuali e li poggiamo qui e vediamo cosa ci c'è ancora all'interno vabbè, lo scatolotto che teneva i manuali abbiamo il moschettone di cui vi parlavo prima veramente molto figo con questo bellissimo dettaglio Beats qui, veramente molto ben rifinito molto molto bello anzi, lo andiamo anche ad inserire in modo tale da farvi vedere come sta qui ed eccolo qui come potete vedere è veramente molto molto carino in modo tale da poterli trasportare nella maniera più comoda possibile veramente molto carino avere questo tipo di accessori all'interno della confezione e soprattutto tenerli separati in modo tale da creare un unboxing ancora più premium all'interno abbiamo ben due cavi Fast Fuel che significa che il caricatore micro USB purtroppo perché questa tipologia di cuffie è ancora della vecchia generazione tra virgolette che tiene ancora un micro USB il cavo però è fatto veramente molto bene in soft touch anche questo è rifinito veramente al top andiamo a vedere l'ultimo della parte di questo unboxing ovvero quello che è il cavo jack che come voi sapete questo paio di cuffie sono sia bluetooth per il vostro iPhone e altri dispositivi ma è possibile collegarli anche via jack abbiamo da un lato il jack AL veramente molto comodo e dall'altro lato un jack classico molto ben rifiniti anche queste parti mi sembrano in metallo quindi veramente al top e abbiamo anche un piccolo microfono con telecomando in modo tale da poter andare a cambiare traccia alzare il volume eccetera 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 veramente molto carino e molto ben rifinito adesso però direi di fare un po' di pulizia e di andare a vedere quello che si c'è all'interno ok apriamole subito in modo tale da andare a vedere molto rapidamente quello che si c'è all'interno e già come potete vedere ho visto una cosa un dettaglio che mi fa subito ricordare a quello che è tutto il mondo Apple che va a rifinire tutti quelli che sono i minimi dettagli guardate un po' la cerniera tutta rossa che va a riprendere quello che è il colore del logo Beats veramente molto molto belle appoggiamo la confezione di lato che anche all'interno è veramente fatta molto molto bene e qui troviamo le cuffie piegate veramente molto molto belle qui abbiamo un bellissimo logo Beats e li andiamo subito ad aprire la forma è veramente stupenda ha un arco veramente molto molto bello che contraddistingue da sempre questo brand che costruisce questo paio di cuffie veramente nella maniera più bella possibile possiamo notare sin da subito che ha dei padiglioni molto molto morbidi e anche l'archetto è rivestito in maniera super morbida in modo tale da non darci troppo fastidio sulle orecchie e quando le utilizzeremo per sessioni prolungate come potete vedere sono molto minimal anche sotto questo punto di vista abbiamo qui le solite Beats sia da un lato che dall'altro dove da un lato ovvero su quello destro va a tenere quelli che sono i tasti volume e i tasti play e pause per cambiare traccia purtroppo non abbiamo ancora la nuova generazione dove abbiamo lo sfioramento touch che non so quanto sia comodo effettivamente dall'altro lato abbiamo il Beats il logo Beats semplice senza nessun tasto ma troviamo il tasto di accensione nella parte bassa che tra poco vi mostro i padiglioni all'interno sono veramente molto molto morbidi molto comodi e mi sembra veramente molto ben rifinito qui sui lati abbiamo il nome della tipologia di cuffia che stiamo andando a testare e abbiamo studio 3 wireless dall'altro lato quindi veramente molto molto figo sotto questo punto di vista all'interno abbiamo il logo right and left quindi sappiamo esattamente su quale padiglione dobbiamo andare ad appoggiare le cuffie ma direi di non perderci in chiacchiere prendere il mio smartphone e andare subito a provarle eccolo qui smartphone subito andiamo ad accendere le cuffie tramite il tasso qui sotto per la prima volta bisogna tenere le schiacciate in modo tale da avviare il pairing come potete vedere si sono accesi i led ed eccole qui subito le troviamo Beats Studio andiamo a cliccare su connetti in modo tale da connettere nella maniera più rapida possibile tramite il sistema il chip H1 che ci dà la possibilità di connetterle tipo come se fossero delle airpods in pratica clicchiamo su fine le vado ad indossare vedo che sia il senso giusto le regolo un po' io ho una testa piuttosto piccola quindi la regolazione più snella mi basta e vado a cliccare subito su play alzo un po' il volume devo dire niente niente male ragazzi la qualità dell'audio è veramente pazzesca le ripoggio un attimino qui in modo tale da parlarvene un po' perché beh questa prima impressione è stata veramente mozzafiato a parte un po' per il volume che non è di quelli stra alti ma sicuramente sarà dovuto dal fatto che per preservare la qualità audio non vanno ad alzare i volumi al massimo dato che i driver all'interno comunque sono abbastanza grandi devo dire che si sente veramente una meraviglia sulle orecchie non dà assolutamente fastidio sono veramente super morbidi questi padiglioni e assolutamente credo che con un utilizzo prolungato non diano assolutamente fastidio e siano comunque comode per appunto un utilizzo prolungato adesso però vorrei provare non a collegare jack perché mi sembra abbastanza banale oramai quelle cuffie bluetooth hanno una qualità abbastanza elevata quindi per me non ha senso andarle ad utilizzare tramite jack ma quello che voglio provare è una funzionalità che non so se voi sapete di essere possibile ovvero la riduzione attiva del rumore di questo bel paio di cuffie adesso è disattivato le indosso e vi parlo della riduzione passiva che devo dire essere già sufficientemente soddisfacente ma non appena vado a cliccare il tastino sento un suono e boom silenzio totale la riduzione attiva è qualcosa di mozzafiato sicuramente andrà a ridurre quella che è la qualità audio che noi andremo a percepire ma devo dire che è veramente mozzafiato bene ragazzi spero che queste prime impressioni vi siano piaciute questo prodottino a me interessa veramente tanto infatti non vedo l'ora di testarlo più a lungo e di portarvi una recensione qui sul canale io vi ringrazio per aver visto questo video vi raccomando se il video vi è piaciuto lasciate like iscrivetevi al canale e attivate la campanellina fatemi sapere voi qui sotto nei commenti cosa ne pensate di questo bellissimo paio di beats solo 3 anzi studio 3 scusatemi e detto questo noi ci vediamo prossimamente sempre qui sul mio canale youtube grazie a tutti grazie a tutti